Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della storia di Yu-Gi-Oh! Nella scorsa puntata che avevo lasciato con il Chaos Format e quindi parlavamo del mazzo Chaos e arrivamo nel 2004. Oggi parliamo prettamente del 2005. Tanti ancora oggi dicono che Goat è stato probabilmente il miglior formato del gioco e sinceramente prima di cominciare a parlare per bene del Goat mi permetterei un attimo di non essere d'accordo. Ma soltanto per un paio di ragazzi tutta la varietà del Goat che si gioca anche oggi quindi che ci sono 50 o 60 mazzi effettivamente veramente giocabili di formato è stata scoperta dopo. Il formato Goat non è che è durato tanto. Non c'è stato neanche poi il tempo effettivo di mettersi a sperimentare, provare e far uscire la varietà di mazzi che abbiamo noi a disposizione oggi quando vogliamo, che ne so, cercare un deck da giocare per il nostro formato Goat del local. Andiamo, pipipipipuppa, ci escono fuori 60-70 decklist ma una volta tutta questa varietà non c'era. Potenzialmente però aveva tutte le carte in regola per essere uno dei formati più vari e diversificati di Yu-Gi-Oh! Quindi su quello sono pienamente d'accordo. Ma che sia stato il formato migliore quando è un formato composto prettamente da scelte binarie quindi attacco o non attacco, attivo la mia mirror o non attivo la mia mirror sinceramente che qualcuno mi dica che è un formato super skilled e che è molto più complicato di giocare adesso non sono particolarmente d'accordo. Comunque sia nel 2005 fino alla banlist di aprile ancora il mazzo principale era Chaos con tutte le sue varie varianti, con tutte le sue varie forme però ancora si giocava Chaos. Con la banlist di aprile 2005, carte come lo spolverino delle arpie, la centenella potente, ordine imperiale, Re Gecky e DD Wario Lady e il tifone spaziale mistico che vanno limitate e altre carte che vanno nella lista vanno a fare male veramente tanto alla consistenza e alla potenza del mazzo. Questo cosa significa? Che i giocatori che comunque giocavano a livelli alti dell'epoca dovevano buildare i mazzi in maniera diversa rimpiazzare le carte bandite con altre carte e quindi ad esempio Re Gecky e lo spolverino vengono istituiti dalle controparti in un attimino più scarse, poi scarse molto fra parentesi perché che un Heavy Storm sia scarso non mi risulta, ma Heavy Storm rimpiazza lo spolverino, Fulmine e Voltex rimpiazza Re Gecky. L'altra cosa molto interessante è che del trio d'oro, delle magie super steeple dello scorso formato, tutte introdotte in Super Ruler, l'unica che si salva è due di Mino. Mentre invece, come abbiamo detto anche prima, la centenella potente e Confisca vanno direttamente nella parte delle bandite della lista. Con l'arrivo di questa nuova banlist e quindi con il nuovo inizio di formato, vediamo un incremento in tutte le liste dei mostri ad effetto Flip. Tutte le vecchie decklist del 2004 che potete andare a cercare, dare un'occhiata se siete curiosi, i mostri Flip venivano giocati veramente poco, quindi l'unica carta che si vedeva ogni tanto era magari un mago della fedemono per andare a riciclare qualche magia, ma solitamente non erano carte di particolare priorità. Per il semplice fatto che, nella sua, fra parentesi, lentezza rispetto a come giochiamo il gioco noi oggi, era un formato, quello caos, abbastanza veloce, abbastanza rapido. E il tempo di mettere giù mostri Flip, prenderne vantaggio e compagnia, non c'era. Ma, ora, con la banlist del 2005, avendo levato tantissime carte esplosive che quindi ti davano una velocità immensa e un vantaggio incredibile soltanto aprendo colore oppure pescandole di top deck, i mostri lenti Flip tornano ad essere un'alternativa buona, un'alternativa anche competitiva. Quindi, la maggior parte dei deck cominciano a giocare non solo più la copia mono di Mago della Fede, ma lo vanno anche a giocare in più copie e anche altri mostri Flip, quindi il salitore notturno, la maschera dell'oscurità, quando uscirà più avanti il vagoncino dei goici e compagnia. In più, assieme a queste carte, vengono anche utilizzate carte come Libro della Luna e Tsukuyomi. Entrambe venivano giocate intanto per andare a disturbare le giocate dell'avversario. Un'altra ragione per tenerli nel mazzo era che potevano essere utilizzati per riciclare gli effetti di mostri Flip che avevano già usato l'effetto ed erano pronti per essere rimessi a faccia in giù. C'è anche un trend in aumento, ovvero quello che tante carte trappola tornano ad essere inserite nei mazzi, proprio perché il gioco rallenta, si torna a un stile di gioco tira e molla, quindi molto ping pong, io butto le mie carte, te butti le tue, vediamo cosa succede, quindi le trappole tornano ad essere comunque un'alternativa buona. Torna Mirror, torna Torrential, Ring of Destro, altre carte che arrivano nel meta sono la Sakuretsu, Frattura Raigeki e il Wing Blast, che anche se sono un mino abbastanza importante per quello che riguarda vantaggio carte, comunque ti permettono di tenere il vantaggio sul terreno. La combo che va a dare il nome al formato e che va veramente a plasmare poi il gioco in quell'anno è la combo Capri Spiatori e Metamorfosi, entrambi giocabili tranquillamente in 3x3x, quindi molto facili da trovare in mano di primo turno. Altro fattore da considerare è che comunque sia il Capri Spiatorio, di sé e di per sé anche se non avevi in mano la Metamorfosi, in un meta dove il gioco è lento e si va sostanzialmente dei normal, calare sul campo 4 mostri con soltanto una carta e installare per i turni che ti servono per pescare quello di cui hai bisogno per chiudere la partita e ribaltare tutto era veramente incredibile. Nonostante che Escape God e Metamorfosi siano le carte più potenti del momento e la i giocatori trovano delle tecce e dei modi di contrastarle in modo più o meno efficace. La prima di queste tecce è Pretesura, Pretesura incredibile per andare a rompere una board piena di schietto perché lo evochi, può abitare tutti i mostri e in più ti ritorna anche in mano, quindi restava una specie di carta terrore psicologico. Altra grande tecce è il Parshot. Parshot è una carta che fino a quel momento era stata giocata veramente poco, invece il Goat riesce a brillare, visto che praticamente perforava con 1900 di danno sui segnali in escape, ti dava vantaggio a giocarti perché pescavi uno e se riuscivi a tenerlo sul campo per più di un turno andavi a recuperare il suo costo e plussavi. Un'altra cosa che secondo me ha contribuito tanto al fascino di questo formato è che è durato veramente poco, perché se vi ricordate tutto è cominciato con la banlist di aprile 2005 e il Goat inizia a tramontare con la banlist di settembre 2005, quindi pochi mesi di attività. Nella banlist di settembre 2005 vengono messe nelle bandite il BLS, Delinquenn Duo e la Carità Graziose. Non solo la parte delle bandite ma anche la parte delle limitate va a farmare al mazzo perché Tsukuyomi, Capri Spiatorio, il Milleocchi, Metamorfosi e Libro della Luna vengono tutti messi a uno. Altro fattore che ha contribuito alla scomparsa o comunque sia al decadimento del Goat è l'introduzione di Cyber Drago. Dobbiamo ricordarci che il Goat è un formato lento, l'ho descritto anche io prima, una partita di ping pong e se tu hai una partita di ping pong porti una pistola probabilmente vinci. E verso la fine del 2005 con l'uscita di Rivoluzione Cibernetica e con l'introduzione dei Cyber Drago e di tutto quello che portavano nel gioco i Cyber Drago, ovvero avere un mostro sostanzialmente gratuito, 2100 che è un bitone incredibile, è un fattore deleterio per il mazzo. Quindi dopo tutte queste botte più o meno dirette il mazzo non scomparirà totalmente perché comunque sia tiene botta fino al settembre dell'anno dopo ma nel 2006 viene ucciso letteralmente con il Restrictor a Tsukuyomi che vengono banditi. Abbiamo parlato solo del Goat Contro in questa parte di video ma penso che sia caso di fare una piccola menzione di onore perché non era ovviamente l'unico mazzo del formato, non era il best deck irraggiungibile come adesso perché adesso si c'è il best deck che è sul piedistallo, qualche mazzettino che si avvicina ma il mazzo più consistente o comunque quello più forte sai che se vai con un altro deck anche con le staple che si giocano nel top deck non lo raggiungerei mai, purtroppo è così. Invece in quegli anni lì e nel Goat se tu avevi un mazzo con le staple giuste e una strategia relativamente funzionante avevi comunque una possibilità di vittoria ed è una cosa bellissima. Altri mazzi di cui non parlerò molto nello specifico ma che comunque sia erano deck che come vi ho già detto potevano competere benissimo con il Goat Contro erano lo zombie, il monarca, il macchine super beatdown rush, i mazzi flip e anche i burn in realtà. Quindi dopo la banne di settembre 2005 c'è un cambiamento abbastanza importante e consistente del meta e il miglior mazzo ritorna ad essere una specie di minestrone caos seguito da monarca, zombie e macchina. Mi stavo quasi dimenticando di menzionare questa cosa ma in tanti dei video dove parlo del Goat c'è un sacco di gente che ci chiede sempre ma che cos'è il Goat, ma come posso giocarci, come funziona, dove vi do la banlist, dove trovo le decklist e compagnia e sul canale io casuale che ho portato una guida completa al Goat format, quindi con tutto quello che dovete sapere per cominciare a giocare al Goat, al vostro local del caso e ho anche alcune decklist, quindi lascerò sicuramente i link o in descrizione o nei commenti sotto questo video qui. Bene ragazzi io direi che possiamo anche fermarci qui, abbiamo coperto il 2005, nel prossimo video parleremo dell'annate del 2006, chi si ricorda Cyberstein sicuramente vorrebbe dimenticarselo ma comunque ne parleremo nel prossimo video. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!